Via Le Marconi avrà la terza corsia. Dopo il vertice di maggioranza che si è svolto ieri pomeriggio presso il comune di Pescara, è stato lo stesso sindaco Carlo Masci a dare l'ultima parola per non fermare il progetto. Da una parte c'era la volontà, quella dell'assessore alla mobilità Luigi Alborre Mascia, di non voler perdere il finanziamento di 1,3 milioni di euro. Dall'altra parte quella degli assessori e consiglieri della Lega, che seppur favorevoli al progetto, volevano salvare a tutti i costi 96 posti auto su una delle arterie principali della città adriatica. Al tavolo di confronto la Lega, come annunciato già nei giorni scorsi, ha presentato un progetto alternativo con due corsie per gli autobus in entrambe le direzioni, restringimento dei marciapiedi a due metri e nessuna cancellazione dei posti auto. In aggiunta a questo, sempre nel pomeriggio, la Lega ha presentato la proposta che riguarda un percorso per il filobus, che andrebbe ad unire la strada parco a Viale Marconi tramite un passante nell'area di Risulta, senza andare ad intralciare ulteriormente Corso Vittorio Emanuele. La fattibilità dell'opera alla fine ha fatto decidere il primo cittadino ad andare avanti così come il progetto è nato, ovvero con tre corsie di cui una riservata bus elettrici, visto che per la realizzazione del progetto presentato dalla Lega occorrerebbero un milione in più e nuove valutazioni. A scendere in campo non solo la politica ma anche l'associazione dei ciclisti, FIAB Pescara Bici, che ha diffidato il sindaco Masci, l'assessore Mascia e il ministero dei trasporti e dell'ambiente per l'assenza nel progetto di un percorso ciclabile.